ciao ragazzi non guardate la mia faccia qua spaventosa che io sono a 13 ora con questo trucco qua le 6 di mattina e adesso sono qua delle sono in realtà più di 13 ora sono le 9 non so fare conti ragazzi io sono di umano non sono delle gente esatte sono bravi matematiche faccio la faccina di sono perché cioè sono praticamente ho dormito un po due orette anche con il trucco non è che ha dormito così c'era il mio ragazzo che dormiva mi sono appoggiata sono svenuta per due ore e poi mi sono assata che avevo cosa fare almeno diciamo che il trucco più meno ha resistito e fanno gravi fuori quindi ragazze miracolo pure e ragazzi oggi io vengo a fare un video più o meno veloce perché non c'è un milione di cose praticamente io vado a fare vedere i miei profumi ci sono delle miniature che non sono qua quindi io neanche farò vedere delle miniature perché uno regalato non abbiamo un amico in brasilia e ce l'ho due ancora della lancomi sai quelle scatolette che tu compri nell'aeroposto che vengono 6 miniature piccoline io ho comprato e provare mi piacciono tutti quelli di quelle scatolette del profumo davvero non detto a letto a lette pure li farò capire che non piace tanto e quindi di quelli lì a me quello che ho provati che è uno però non mi piace quindi io farò vedere adesso tutti i miei profumi e qualche trattante perché ho comprato abbinati a questi profumi quindi i primi profumi che li farò vedere farò già subito quelli brasiliani che ho comprato abbinati con l'idratante quindi questo qua è l'idratante questo qua della natura questo qua ci sono delle ragazze brasiliane che li vendono questo mi piace tanto chiede lino i fiori di arancio lui è un po diciamo titrico sai un po così mi piace l'odore mi piace perché chiudo qua perché sempre che viaggi io metto cosino qui perché a volte sfogge un po e quindi lo stavo usando in brasile questo qua e lui viene con questo profumino qua sono venuti insieme perché li ho comprato una promozione insieme però loro si vengono puri staccati che è un desodorante di spray corporale dove non spreco operare quelli che tu passi così e dovrebbe non durare tanto perché di solito queste qua non durano da solo non lo so perché a volte metto per dormire di stavolta e quindi se io metto da solo non so se di mattina non li sento tanto ma se io metto idratanti poi metto questo pagina ragazze dura tutta l'anno di tutti i giorni tutta la vita è una cosa incredibile è la stessa cosa con l'altro io vado pure a togliere questo qua perché sai non mi ricordo tanto 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 profumo e poi vi faccio vedere pure com'è lui ha un spray viene con il coltino funziona tanto questo qua non si è mai rotto di quelli che ho avuto in una volta facciamo gli spunti netti se non riesco è andato un po chiuso luce a o quei queste cose perché è un neodorante quindi c'è però ragazza un profumino che sai c'è come posso dire fresco che io penso che non c'è nessuna persona che non gli piace sempre profumi freschi però è una cosa diciamo estiva penso io io uso di inverno perché a me mi piacciono in quest'entruttore pure l'inferno però non ce l'ho un idratante sarebbe più invernale che in questo quadro macadama che non c'è mai fine che tutti mi vogliono rivedere ma lui è ancora qua poi io li va andare a utilizzare questo coso qua perché la natura magari per comprare un'auto perché questo qua già la faccio più è un po più dolce diciamo e la natura e vendi soltanto il sacchetto che tu li rimetti qua dentro perché queste cose qua queste bottigliette questi barattolini di loro durano una vita per rovinarsi una cosa incredibile questi qua della natura poi ce l'ho costato qua che quello che io li ho portato giù ma perché questo qua sono nei miei cassetto dei comodini e io vado a dormire non tutti i giorni mi ricordo perché o non ci ho coraggio sono pighe o meno tre quattro volte la settimana o meno tre volte quando sono troppo troppo due due ma almeno di questo no io gli metto il coso idratanti profumo ma a volte un po per spese spruzzo una volta fa nel caso quando non riesco a dormire ragazzi sembra un metodo subito praticamente questo qua è di fiore di di limon limone quello verde perché da noi si chiama limon che è quello verdi e quello italiano diciamo quello giallo noi chiamiamo di limon siciliano siciliano perché non lo so questa radicola e gravi o che ha un frutto che io penso non è arrivato qua in italia un frutto brasiliano diciamo è un frutto brasiliano e io ce l'ho a questi 30 tanti che hanno già bisogno di un milano di idratanti perché poi scatti con queste cose tutto ce l'ho altre fraganze che mi piacciono però queste qua sono quelle che io non lascio mai di piacere e sono tutti abbinati tutti i due li ho comprati soltanto prendo proprio oppure questa è una promozione quando vedono le promozioni li prendo perché mi piace questo sarebbe una edizione speciale spero che ritorni in questa qua pure era una edizione speciale però poi mi sa che tanta gente le è piaciuto che li hanno rifatto li stanno facendo ancora meno nell'ultimo ci giro che ho visto della rivista perché questo quasi con in rivista soltanto i negozi non ho mai visto praticamente meraviglioso eppure un po zitti e con poco di mi piaccia fai io non so dire cosa c'è dentro magari si c'è poco non parlo tutta la vita qua poi c'è poco un profumo che volete che io parlo un po più profondamente poi posso andare a cercare cos'è poi sono questo quattro ce l'ho già un po di tempo chi è quel profumo che io uso quando non sto bene nel senso c'è i problemi e io c'è i problemi digestivi quando a volte io mi vomito e tutto quando non sto bene uno questo qua perché è un profumo che io posso spruzzare un sacco mi piace l'odore però non lo senti in me però dalle persone li sento io pensavo che neanche la gente sentiva perché facevo il bagno praticamente la dolce e tutto e una volta sono andata a casa di un'amica chi è questo qua è mi fa chi quinta veniva non so una cosa fai che vede un boh all mickey dell'elisabete aden che praticamente la mia amica io pensavo non sentire sono arrivata da mia amica le ha detto ma che profuma e che c'è un vento che è passato che è arrivato a me un profumo buono tutti non sapevo che era questo perché lo stavo da di spesso e dura pure un po perché diciamo tutto è più profumo se no perché io li butto tanto quando mi metto doccia faccio e non so dire ragazze non sono dei tipi ma io posso dire che la maggior parte di questo profumi qua che io dirò che io che c'ho i problemi di a volte non mi piacere tanti profumi troppo dolce queste cose le dirò quelle che a volte quando io sto male non riesco a usare ciao questo qua che soffì questo padre barattoli vecchio questo qua è della boticario la boticario è nata con profumi poi a fappori idratanti queste cose tutto però io non ce l'ho più nessun grattaccia boticario quello che c'ero è quello che ho pure messo di cocco dentro ma è finito già da un po boticario c'è il negozio nei centri fisico e negozi e mi vede pure con prevista non fate da sempre ma da un po che li vengono e visto certo così non lo so non mi ricordo se c'era una pezza che c'erli ho perso è quello che uso e spesso quasi tutti i giorni perché un odore sai stare a casa vado lì al mercato queste cose li uso sempre e lui c'è il nuovo nuovo barattolino li ho fatto vedere pure chi ha lo stesso però io penso che questo qua forse dunque di più non so se così la mia testa però la stessa fraganza diciamo però non lo so perché questo qua c'è colonia like soffì in questo qua c'è la stessa perché questo qua adesso figli ci sono quattro mesi a cadere su cinque fraganze e le ha detto che era uguale a quello che io usavo quando piccola che ha cambiato il nome chi sarebbe ma scegli però non è non è uguale guarda l'iguale non è perché io ce l'ho e mio amico ma c'era un quale macerie fino a un mese prima di andare di venire con mesi un mese fa perché io lasciavo di spostato a volte per sentire sai l'odore di infatti diciamo mi piaceva e ricordare l'infanzia poi c'è il mio profumo che sai vado a uscire mi voglio sentire profumato sai che di sempre del profumo di ricca che questo qua non ha nascito rodriguez che mi piace tantissimo che io c'era un piccolino ma non era di questo e fate vedere il mio ragazzo e lui mi ha regalato questo il mio compleanno di 30 anni vecchia 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 però non ha comprato quello tradizionale ha comprato questo qua ho usato oggi per uscire era meraviglioso io penso che è un profumo che comprerò per tutta la vita spero che non cambiano la fraganza perché questo qua mi piace tanto e non mi dà con l'effetto di vado a vomitare con questo male perché settimana scorsa passato la settimana male 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 del stomaco male tanto quindi è un profumo che non è tanto forte diciamo poi io ce l'ho questo signorina che ancora chiuso 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 perché non è che vado a usare 30.000 profumo però l'inverno lo aprirò diciamo che io non posso parlare niente che non mi ricordo più dell'odore dicevo la miniatura oppure di questo ma tra di dentro il mio armario li devo risistemare perché praticamente mancano dei cassetti che arriveranno questa settimana perché non c'era dove mettere le cose quindi adesso che arrivano io li sistemmo tutto per bene le cose suo posto e le bigiotterie queste cosine il trovo tutte le cose delle borse e ritroverò queste queste miniature ma ragazze io dico i negozi se avete con le miniature è la migliore cosa tutti i profumi questi qualche comprato che mi piacevano gli ho comprato miniature con quelle piccoline che ti danno poi c'è questo qua farò e della bravo dicevo io dico a voi sarà così che non è dei miei preferiti tutto però io ho chiesto la mia amica ciotolina che chiamo così perché non è del suo canale quindi chiamo così ho chiesto a lei praticamente da un profumo che era buona che gli piaceva e tutto e lei mi ha detto questo qua e l'ho comprato e piace nel senso prima tanta gente diceva che davo mal di testa queste cose ma mi sa che ha perso eppure mi hanno detto una cosa un profumo che ti dà mal di testa e ti piace l'odore ma l'odore mi piace però quando ho avuto da mal di testa io c'era un altro che io nella fine stava facendo con di me ho regalato una cugina mia che sono andata lì e lei non c'era nessun profumo io pensate è una ragazza bravissima i tuoi c'è i problemini di lei c'è depressione io l'ho regalato questo profumo che era i cofi che io normalmente non riusciva a usare ma quando io faccio faccio la doccia li metto pote di spruzzo e poi mi butto un po di acqua sopra di meno per togliere l'eccesso e di rimanista e quelle profume di capacca questo qua o meno la prena se dice in bradini di solito si attaccava questo qua a meno a me non ha mai fatto nessun effetto così insieme a quello signorina ho comprato questo qua della luce per questo che ho conquisto comprando i barattoli minore definiscono prima chi è bellissimo imparato quello della signora poter pure apri per far vedere che c'è la bottiglietta bella pure mi piace tanto ma questa bottiglietta quando mi piace un sacco guarda che farina che carina sembra qualcosina di bere è bellissimo e profumo oppure mi piace tanto non so spostare qua nella vostra mangi perché mi sa che c'è un po di legno ma non so ragazzi ma c'è l'odore di un profumo che scocco non lo usava sa che la mia mamma c'era un profumo pure simile a questo nella mia infanzia che odore buono e questo qua non ti farà mai vomitare guarda che io solo sì davvero un profumo che non ti piace perché ragazzi io dico una cosa profumo è una cosa strana ci sono dei profumi che amiche miei sono parte migliore tutto il odore che schifo così sono una cosa particolare poi c'è un'altra cosa l'odore della tua pelli mi stima quel profumo cambia l'odore del profumo cambia la tessia se non sono delle pelle che i miei del profumo si attaccano quelle che che vanno via subito quindi deve sempre provare nella tua pelle perché a volte tu vai lì l'odore della nei negozi a mi piace mi piace mi piace poi metti nella tua pelli lui cambia quel caldo della pelle con le cose con non so cosa e rimane un altro odori tu non ti supporti che profumo sopra di te bene un altro profumo è questo qua che non ho mai capito i nomi che praticamente mi ha regalato un'amica mia se le vendevi profumi questo qua ranno sono arrivati un sacco di questi per le fa provare la gentile dei negozi lei mi ha regalato questo è un po fruttato penso però un po fortino questo qua e quando tu hai spruzzo se tu hai mal di testa queste cose un po fortino diciamo chi lo sa il nome di questo qua ragazzi guarda che c'è questo cosina qua da mettere così magari ha visto così riesco a fare il fuoco questi adesso i nomi 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 come io non lo so dire bugie bene adesso vado dalla parte di questi due quanti voglio fare un video parlando di questi due perché sono i profumi che tutti dicono come i peccati a me piace il profumo di becchia ragazzi in realtà i solensi c'è quello c'è quello della jorge miss jorge quello degli anni 40 c'era un odore che è meraviglioso e ci sono dei migliori che non mi piacciono ci sono quelle che mi piacciono perché cambiano le formulazioni dei profumi classiche c'è sempre a chi piace c'è sempre che piace a vado lì voglio dare profumi che usavo la mia nonna e le donne più vecchie a loro piacciono quelle cose lì questo qua sarebbe un profumo di vecchie e costa niente questo qua costerà 2 euro è un profumo di nonna e a me piace usare per dormire mi piace usare per dormire queste profumi qua e durano tanto praticamente tutti i nonni usavano questo profumo è vecchissimo io mi sai che quando ho letto e sa che sono dei anni 50 una cosa del genere che la sono tutti e due dell'avon queste qua sono i due plastiche questo è charisman tutte quelle brasiliane lo conoscono questo qua e questo qua è topaz la mia mamma vedeva poco da un piccolo e le decennate troppo perché sono quelli che custano di meno nel catalogo sono quelle che custano di meno e la mia amica ha detto che qua non c'è ma io penso che sono quelle odorine sai che tu metti per dormire metti così nel cucino così sono buoni per uscire in metà volte pure quando voglio perché sono di questo io sono questo tipo di persona anche perché quando in italia nessuno lo sa che ha gustato niente che quando la gente non c'è tanto preconcetto che in brasilia si dicono che tu stai andando questo qua la persona si guarda così può non avere niente la persona mori di fama vuoi essere migliore che io non capisco poi c'è il mio amico che ci ho fatto vedere nel video praticamente io non sto facendo di fregante ragazzi perché lo capisco quindi chi vuoi sapere qualcosa mi parlate che io vado a cercare diciamo voglio sapere di questo profumo qua io vado lì nel cosino e cerco di cos'è cosa c'è dentro posso venire a fare un video parlando di questo questi qua già c'è scritto già c'è scritto dico di cos'è praticamente cosa è fatta io di queste quali lascio nella scatola perché come sono i vetri trasparenti e pure quelli sono ma questi qua ho voluto lasciare perché dura di più la fraganza loro non sono tanto forti questo qua farebbe lavanda aromatica e poi quando è scritto pure in inglese sai vai samira ok una lavanda a mattica che praticamente una cosina è un'acqua di profumo un'acqua di scero che si sembra di un profumo un'acqua profumata e praticamente prima duravano di più adesso non tanto come questi qua profumo dell'ambiente andare alla scuola la mia sorella la gente andava io spostavo perché perché c'era perché le sorelle più piccoli li fanno questo quando queste cose lei rubava quelle care della mia mamma e io rubavo quelli di lei che erano pure care perché questo qua ne brasil e in quel tempo di le persone povere non avevano come eravamo noi che non avevamo questo so di tutto poi c'è questo qua che è tradizionale quello dia della boticario ragazze questo non è boticario pure questo è una linea che la botecare fa tutte così ci sono ancora che si chiama è il primo questo qua tradizionale il primo profumo che ha fatto la boticario acqua fresca e questo qua il primo e cal praticamente si dice in pratica della macchina chef il caro chef il primo profumino che ha fatto la nostra amica non guardare le onghe questa qua già uscita li devo rifare faccio una volta settimana solo quindi praticamente questo profumo qua è il primo profumo che ha fatto la boticario e che ha fatto di diventare famosa perché lei faceva solo questo qua quando lei ha cominciato che questo qua è un citrico legnolo c'è il legno citrico amadeirato ci sono pure ingredienti che volete ma se non fa una vita che ci sono già vinti minuti che sono va a parlare non c'è la fine ok poticare prende già un altro parla boticario e pro gli altri della natura e finisce quasi quasi ragazzi poi c'è questo qua non neanche a parlare che è sessita 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 un po più dolce un pochettino più dolce diciamo che quelli altri li sono proprio freschi questo qua è un floral buchet che c'è scritto qua che praticamente è la stessa fraganza del primo perché questi qua quando io ho comprato questi ancora loro non hanno cambiato la fraganza tutti c'è iscritto verona tra grande tutti ci hanno scritto il primo che hanno fatto c'è c'è scitta chi ti chiama praticamente questo profumo c'è esiste da un nuovo soleno anche quando sai sono antichi antichi che hanno cambiato la il barattolo il vetro qua la bottiglietta che la propria schietta di prima era più carina era più sassettinata gli hanno messo questa qua e la questo pagno mi sa che si cade si rompe quando la già ti prendevo qualche bottino non si rompeva facile era meglio fatta però non penso io che per non fare troppi cari profumi hanno fatto quello lì in questo quadro la bottiglietta sessita era quello che usava la mia mamma tutti i giorni a casa ok la mia mamma piacciono i profumi dolci quelli quelli dolci 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 ma nella pelle di lei andava bene perché lei c'era una pelle con odore c'era legno nella pelle di lei sai una pelle con odore diverso di tutti altri quindi rimaneva buona questi profumi nella pelle dolci poi c'è l'una che io l'avevo usato prima mi aveva piaciuto un sacco adesso non so mi sento un po un po diciamo più dolci che prima è un po più dolci e adesso sai penso io che quando ho usato prima gara hanno cambiato la formulazione però dirsi lui lui ha ammaderato con te non lo so non lo so ma dice che c'è limone tutto dai ragazzo c'è te però questo qua uno dei preferiti però questo qua io ho mal di testa o cosa del genere non riesco a usare perché è un po forte questo qua un profumo forte almeno questo ciò qua ma c'è un po di citrico e un po dolci però è un profumo forti diciamo nei giorni troppo caldo e non mi piace usare in inverno perfetto o primavera che non è caldo in tutto e poi c'è il penultimo che è ecco della maracouge questo qua questo questo qua della natura questo questo qua pure della natura che ho guadagnato questo mi sa mi piace pure questo qua non c'è un odore forte a decadeva questa linea qua fanno tanti profumi con l'odore di di frutta di cose questo qua di maracouge questo qua non c'è bisogno questo già si senti di qua c'è un profumino di saponetta sai mi piace di sai dolce fatta sai quell'odore di dolce fatta e questo qua profumi di dolce fatta pulito sono pulito sono stanco sono stanca di tanto fare questo qua e dopo ti posso farci una sorpresina per voi perché anche quei barattolini piccoli ce l'ho ancora altre cose perché prima io vendevo profumi della natura per questo dicevo un sacco e questo qua è la la raggera in fiore che è un profumino ai ragazzi mi piace questo profumo è un profumo che avevo sai li metto pure vado lì li metto devo pure togliere per usare di più perché è un profumino buono qual è un profumo senza perché ho un profumo non c'è un profumo che ho dormito c'è un profumo che ho mai visto, non c'è un profumo che ho mai visto questo qua è aperto ma come buona adesso il bancho ha un odore meraviglioso che pazza che pazza ho scaduto un po' per terra un po' sul legame un po' tanto oggi dormo profumata profumatissima diciamo sono così ragazzi io faccio cadere tutti mio ragazzo e i miei compagni diciamo e adesso fuori a quel piccolino che saranno dentro delle botte delle cose dentro dell'armario che a volte tolgo dentro dei cassetti dei vestiti perchè a volte li metto lì li nascondo ci sono questi qua è caduto un po' di di cosa qua e vado a prendere un po' di cartigenica a passare qua per terra perchè non macchia i pavimenti pronto è tutto secco e poi qui